Il primo si può fare se pubblica amministrazione i mezzi e gli strumenti tecnologici per permettergli di analizzare i dati in una maniera intelligente, quindi trasformare i grandi volumi di dati esistenti da informazioni non fruibili a informazioni fruibili per una migliore presa di decisione, per delle decisioni più mirate nell'allocazione delle risorse e per dare la possibilità alla pubblica amministrazione di intervenire con interesse. L'intelligenza è su base di dati sulla allocazione delle risorse. Questo è il si può fare se che secondo me è importante, supportare il fatto di continuare la digitalizzazione e supportare il fatto di dare gli strumenti alla pubblica amministrazione che gli permettano di prendere decisioni intelligenti. Come si può e si deve fare con i cittadini e con le imprese? Bisogna mettere il cittadino al centro degli obiettivi della pubblica amministrazione, quindi si può fare con il contributo degli cittadini che capiscano che le spese che sono fatte sono fatte con intelligenza e sono fatte in una maniera trasparente. Quindi si può fare con un monitoraggio, con un pilotaggio che è dato al cittadino e che permette al cittadino di vedere i risultati della spesa pubblica. Si può fare con un benchmark fra le differenti regioni, fra le differenti istituzioni che permette al cittadino di vedere il risultato delle decisioni che sono prese dalla pubblica amministrazione. Quindi si deve e si può fare con il cittadino al centro delle preoccupazioni della pubblica amministrazione. E anche questo, come dicono gli americani, you can only manage what you measure. L'obiettivo è veramente di dare gli strumenti del monitoraggio delle decisioni che sono prese, dell'utilizzo della spesa pubblica al cittadino in una maniera trasparente. Secondo me questo è importante.